In questo giorno in cui i romeni celebrano la loro indipendenza nazionale ed il consolidamento politico del loro Stato mediante la Costituzione del Regno di Romania, ha avuto luogo una grande rivista militare, alla quale hanno assistito Re Michele, la regina madre, il conducatore maresciallo Antonescu, i membri del governo e il corpo diplomatico. Presenti anche la missione speciale italiana con a capo il generale d'armata, senatore Grazioli, e una missione militare germanica. Grazioli Grazioli